Musica Cominciamo questa puntata dedicata alla 1358esima edizione della Fiera di Santa Lucia di Piave e all'inaugurazione anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia Musica Presidente, è talmente antica questa fiera che diventa patrimonio culturale di questo territorio Ma direi proprio sì, la Fiera di Santa Lucia è identità, identità del territorio, identità veneta Prova ne sia che anche se non ci fossero i calendari, i cittadini poi arrivano a migliaia qui ogni anno e questa è la dimostrazione che è qualcosa che ormai geneticamente riguarda i veneti e non solo, visto considerato che abbiamo anche stranieri e molti cittadini che vengono da tutto il mondo in questa fiera Quindi motore anche economico di questo territorio Guardi, lo è sempre stato, lo è e lo sarà, visto considerato che da qui partono le grandi novità per l'agricoltura ma non solo ed è anche l'occasione per presentare nuovi brevetti, novità e quindi il mondo di imprenditoria qui si ritrova, si ritrova il mondo dell'offerta, il mondo della domanda e direi che il mercato c'è ancora fino in fondo Musica Eccoci qua, la banda sta per partire, siamo qui davanti al municipio, tu sei? Manuel della Scuola Tamburi Storici di Conegliano Raccontaci un po' che cosa siete, cosa fate? Beh, noi siamo un gruppo di rivocazione storica e suoniamo il tamburo e adesso partiremo col corteo delle fiere Siete vestiti in che modo? Noi abbiamo ambiti oggi del 1300 e quindi accompagniamo il corteo che è dei conti con l'alto del 1300 Grazie, vi lascio perché il corteo sta per partire, grazie Siete vestiti in che modo